ragazzi attenzione rallentiamo un attimo perché è il momento di collegarci è il momento di viaggiare con un uomo che vive al di là al di là di più un profeta un maestro un maestro di vita uno che ti fa viaggiare stando comodamente a casa tua lentamente super Hoffman uno che ti fa viaggiare comodamente seduto a casa tua doppia goccia ci colleghiamo con gino lo spazzino questo il cammino di gino lo spazzino senza sciarpe non si parte disco lento senza mento un maccio pane porco canto e adesso e adesso come tutti i giorni la musica no no voglio gocciare petto e coscia non si ammoscia senti il basso nel cervello ma basta ragazzino l'ascolto inizia la rima ti giro lo spazzino lo spazzino lo spazzino lo spazzino lo spazzino anche il grano nella mano fa felice purinano sotto il ponte di baracca c'è biarino che fa la cacca ma cosa c'è? giro giro tordo casca tutto il mondo casca la terra e tutti giù per terra Gino tutto a posto? chi sei? no sentivo tutto a posto anche oggi me lo chiedi? sì no perché sentivo che ti lamentavi non vorrei che stai male tutto a posto tutto a posto a ferro agosto tutto a posto a ferro agosto ho capito ma tutto a posto tutto a posto a ferro agosto ora esci se no ti sposto te lo fai ma lo sai dove non è non è non è non è non è non è Gino c'è tua madre sul cellulare c'è mia mamma sul cellulare e di di venire qui e di suonare 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 Gino magari lei voleva sapere se puoi passare a prendere i totani per cena i totani mangio i totani per cena e mia mamma è troppo scema no Gino magari dirlo tu di persona povera donna sto registrando esci dello studio esci dello studio devi uscire sto registrando il programmino di Gino lo sacchino lo spazzino lo spazzino mi fai una cortesia se vedi Luisella di lì se è tutto a posto tutto a posto a ferro agosto tutto a posto a ferro agosto sei scendo ti ho detto se incontri Luisella probabilmente dopo devi registrare qui chiedi se è tutto a posto tutto a posto a ferro agosto tutto a posto a ferro agosto mi aspetto domani su Video Music ma no è CO2 un bacio a quell'originale ciao Gigi 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 Grazie a tutti.